Sono felice per questo evento, vi ringrazio perché in questi giorni affacciandomi dalla finestra ho visto gente operosa, attiva, che lavorava, i rumori mi parlavano di un'attività febbrile che ha animato tutto il quartiere. Con queste parole un abitante della zona del Pincio ha ringraziato gli organizzatori di Aria per questa avventata di iperattività che ha risvegliato questo angolo di città. È intervenuta a margine della conferenza stampa che è servita da inaugurazione all'evento dedicato alla casa che in questo fine settimana concentrerà tutto il mondo della progettazione, innovazione, architettura e recupero dell'universo casa. Certo il tempo non gli sta dando una mano ma nonostante tutto gli organizzatori stanchi e felici sono stupiti per i consensi e l'interesse suscitato dalla loro creatura. Siete prontissimi? Siamo prontissimi, stanchi, accelerati, emozionati, chi più ne ha più ne metta però finalmente si parte e siamo felici di accogliervi qui al Pincio che per tre giorni sarà casa nostra. Ecco casa un po' di tutti è un fermento qui attorno, attorno a noi si lavora lacremente per arrivare alle ore 16 all'apertura però insomma grande movimento avete portato qui in questa zona della città di Fa. Sì abbiamo portato un cantiere al Pincio, stiamo cercando di creare il meno disagio possibile, abbiamo avuto anche la riprova fortunatamente che qualcuno ci ha fatto i complimenti dei cittadini qui intorno al Pincio quindi siamo contenti se i cittadini che abitano qui nei dintorni di non creare troppo disagio diciamo. Come dicevamo apriamo alle ore 16 quindi fino a quell'ora avremo ancora un pochino di movimento, speriamo comunque di riuscire a terminare in tempo, speriamo che il tempo tenga in modo che anche le operazioni di allestimento si riescono a fare velocemente. Ecco due giorni intensi, tante cose da far vedere e tante cose da proporre. Tre giorni intensi, attenzione perché noi sul venerdì ci crediamo. Esatto. Tante cose ci chiamano da fuori Fano, da fuori Pesaro, da fuori Regione, da Bologna e non solo per dire ma che conferenze sono, sono interessanti, vogliamo venire, vogliamo fare. Allora vi diciamo le conferenze sono bellissime, guardate il programma e se piove si fanno perché si fanno la chiesa del suffragio. Quindi se scrivete su Google Santa Maria del suffragio chiesa vi dice dov'è. Grazie. 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 Grazie.